In questo momento non ho la mia texture pack, perché questo video è dedicato proprio a quest'ultime, o meglio non alla mia texture pack, ma a tutte le texture pack. Mi trovo in questo momento in un mondo amplificato, non so neanche io il perché, e ho le shader installate che dovrei rimuovere perché potrebbero andare a compromettere il risultato finale, anche se devo dire che le shader fanno il loro effetto, ecco. Ogni volta che rimuovo le shader sembra quasi di aver cambiato gioco, però va bene. All'interno di questo video non voglio far altro che mostrarvi le mie top 5 texture pack che non vanno a stravolgere completamente Minecraft. Hanno a cambiare veramente poche cose, ma che secondo me possono rendere il gioco molto più gradevole da giocare. Detto questo partirei subito con la prima texture pack, mi sono spostati in questo punto perché la texture pack andrà ad agire sulle foglie, e quindi se non c'erano alberi lì potevamo vedere ben poco. Sarò la texture e ci vediamo fra poco. Ed ecco a voi la prima texture installata. Come potete vedere il blocco delle foglie è diventato tridimensionale con queste altre foglie che sporgono dai lati, per dare all'albero un'idea meno cubettosa perché di solito le foglie non sono perfettamente quadrate, l'albero non ha una chioma quadrata, ecco. Devo dire che rende molto meglio l'albero, soprattutto nonostante questa qui sia una texture pack, questo qui è un modello 3D, quindi che cosa succede? Al modello 3D viene applicata la texture che voi state utilizzando, in questo caso è quella vanilla. Ma se io andassi a cambiare la texture dell'albero, che questa texture si vada ad applicare anche al modello 3D, creando queste foglie che sporgono, però con la texture applicata. Voglio andare a fare una prova, quindi adesso installerò un attimo la mia texture e cercherò un albero che ho modificato. Comunque essenzialmente la texture va a fare solamente questo, va ad aggiungere queste foglie realistiche. La texture si chiama Better Leaves, ossia migliori foglie. Un attimo qui è di cambiare un attimo la mia texture. Come potete vedere in questo momento ho appena installato la mia texture, a parte che c'è quella torre che, non lo so, si è generata, sembra quasi fatta artificialmente. Come vedete il modello 3D della foglia si è adattato alla mia texture, ossia quella che c'è all'interno della mia texture pack. E' per questo che molti youtuber, quando vanno a realizzare le loro texture, hanno queste foglie in 3D, in realtà non fanno altro che prendere questo modello 3D e andarla ad inserire all'interno del pacchetto. Ovviamente non è una roba illegale, semplicemente nella mia texture pack vado ad aggiungere blocchi e modelli 3D che ho realizzato io personalmente. Tuttavia non è finito qui perché la seconda texture di questo video si ricollega alla prima, ossia quella delle foglie. Installo e adesso ne parliamo. Va semplicemente ad aggiungere un modello 3D che rende i tronchi degli alberi più rotondi del normale cubo di Minecraft. E per chi non l'avesse notato sono due texture pack che non vanno a fare altro che a replicare la mod Better Foliage, che appunto va a migliorare le foglie e i tronchi. In questo caso abbiamo migliorato l'aspetto grafico di queste due robe senza l'utilizzo di mod, tramite due texture pack che sono leggerissime. Quindi piccolo appunto, queste due texture pack se non sbaglio hanno bisogno della Optifine o comunque voi utilizzatela lo stesso perché semplicemente è utile la Optifine. La sto utilizzando anch'io in questo momento quindi che non dovreste utilizzarla ecco. Secondo me va ad aggiungere una roba utilissima, ossia la Dark Mode. Come potete vedere quando apro l'inventario, l'inventario è essenzialmente grigio e bianco. Stessa cosa per le chest, per la fornace, l'envil e per qualsiasi blocco di Minecraft che sia interagibile. Non fa altro che aggiungere appunto la Dark Mode e vi mostro il risultato finale. Dal menu si può intravedere qualcosa, le impostazioni sono cambiate, sono leggermente più scure. Stessa cosa per le chest, per le fornaci, la anvil, la crafting table e tutte le altre robe. Anche l'inventario è cambiato e secondo me questa roba è molto utile soprattutto per chi gioca a Minecraft la sera e non vuole avere gli occhi sparaflesciati dalla luce bianca. La texture è aggiornata per la 1.19.2 quindi praticamente qualsiasi guido di Minecraft ha la Dark Mode integrata in questa texture. Secondo me, nonostante aggiunga solamente questo, è una roba molto utile, anche l'inventario lo vedo leggermente più scuro e sapete che vi dico una roba che andrò ad aggiungere alla mia texture pack. Andrò semplicemente a prendere le texture vanilla e a renderle molto più scure. Ci vuole praticamente nulla, basta due robe su Photoshop e si fa tranquillamente. Secondo me è una roba esteticamente molto gradevole ecco. L'altra delle cose in Minecraft che lascio un po' a desiderare è il tramonto o comunque il cielo in generale. Quindi sono andata ad aggiungere una texture pack, questa texture pack si chiama Dramatic Sky, si dovrebbe chiamare in questo modo. Va a migliorare il cielo, ovviamente a patto che ci sia la Optifane, quindi l'install ci vediamo fra poco. Questo qui è il cielo default e questo qui invece è il cielo di questa texture pack che va a rendere il gioco più gradevole. E soprattutto questa texture pack unita a tutte le altre, ossia quella che ti rendono le foglie più realistiche, i tronchi più realistici, Algui con la dark mod, secondo me rende il gioco molto più gradevole visivamente. È molto più semplice e ha delle nuvole. Questo vi può aiutare anche a disabilitare le nuvole default che vi fanno laggare essenzialmente. Quindi avete queste nuvole che sono anche più gradevoli e vi fanno laggare meno. Stuzzicando di aggiungere tutte queste robe alla mia texture pack, però vedremo ecco. L'ultima texture pack che vi andrò a mostrare in questo video è la Fresh Animation, si dovrebbe chiamare in questo modo. Grazie a questa texture pack, quindi non è una mod, va ad aggiungere delle animazioni più fluide ai mob. Va a migliorare l'aspetto grafico del gioco, ecco. Stallo un attimo la texture pack, ci vediamo fra poco, va? Che la gui in creative, come vedete, è tutto cambiato. Allora, appena installato la texture pack, graficamente non ha aggiunto ovviamente nulla. Vediamo un attimo. Cioè questa qui è una texture pack. Guardate che animazione dettagliata nonostante sia solamente una texture pack. Creeper. Anche il Creeper l'ho visto in una posa molto più realistica. Vediamo il ragno. Sì, molto più realistica. Ha le zampe che si muovono come un vero ragno. Fa leggermente impressione, schifo. Sì, ha delle animazioni molto più fluide, si vede dalle gambe, perché le muove in una maniera diversa. Si nota molto meno degli altri mob. Guardate lo zombie quanto cavolo cambia. 5 texture pack fenomenali. Queste 5 texture pack messe insieme. Se prima graficamente secondo me era da 7, adesso secondo me anche da 8. Ha delle animazioni molto più fluide, delle texture molto più carine. Qui abbiamo il tronco rotondo, le foglie più realistiche. Che i mob che si muovono in una maniera più realistica, inventario con la dark mod per non rimanere accecati. Senza dimenticare ovviamente il cielo realistico. Detto questo, spero che questo video sulle 5 texture pack più utili di Minecraft 1.19, ci tengo a precisarlo, vi sia piaciuto o vi sia stato utile. Sono andate a selezionare secondo me le robe più utili. E infatti si è visto. In questo video ci sono texture pack. Vanno a replicare robe che fanno le mod. Fatemi sapere se volete un altro video di questa categoria qui sotto nei commenti. E detto questo, nulla essenzialmente. Fine. 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 Fine.